Iniziata la quarta edizione del Carnevale Battipagliese, giù la maschera, ieri mattina i carri hanno sfilato per le principali vie della città. I festeggiamenti proseguono oggi e domani. Oggi in programma le iniziative delle scuole di danza, con particolari balletti e scenografie carnevalesche, oltre ai laboratori previsti nella scuola De Amicis. Domani in Piazza Madonnina con gli ultimi festeggiamenti. Prima Spigariello consegnerà alle ore 19 le chiavi della città alla sindaca e successivamente ci sarà il funerale con il corteo al Carnevale Orgai. Ormai è morto.